Il grande derby qui in Serie B riprenderemo solo per questa partita, primo e secondo tempo, così il nostro Finizio, primo e secondo tempo, tutti e due i tempi, così il nostro Finizio avrà tempo per entrare in campo. Nel frattempo seguiamo un tocco splendido di Didonato col pallone che si perde però sul fondo, più pericoloso in avvio di partita i ragazzi della squadra di calcetto. Somma, occhio per Barbieri, la mette giù di petto, dorme in questo caso Torino Luca, si è proprio addormentato in questo caso, infatti Gianni invita a svegliarsi i suoi compagni, ci tiene tantissimo anche perché questo è anche il derby tra i vari Torino, Gianni e Gianni tra l'altro più Luca, Magri prova a dare un po' d'ordine, Somma superato da Didonato, la mette giù Torino, calzolaio, chiude tutto, Barbieri appoggia per Somma, chiuso però da Gianni Torino che prova a portare avanti i suoi, tocco però chiuso e va un altro Giovanni, vale a dire Nanni, lo chiameremo così per avere un po' più di facilità nella nostra cronaca, Didonato sbaglia il tocco, Somma per Barbieri, in mezzo a tre, Barbieri, Barbieri ancora lui, con i calzerottini rosa, punta D'Angelo, viene fermato, D'Angelo che è appena tornato dal mare, anzi dalla piscina è vero, specifichiamo, piscina Neapolis per chi lo vuole vedere con la sua panza da fuori, Nanni a battere la laterale, forse toccherà per Somma che praticamente lo ostruisce, quasi un imbecille, Palla per Artina che calcia il volo, mamma mia, Artina, cosa stava per fare Artina? State dormendo, Struz! Nanni vuole la distanza, Didonato va sulla linea, che occasione poco fa con Simone Artina che ha calciato benissimo il pallone, poi Torino la mette in laterale, che va a battere ancora Nanni, la mette dentro, Somma ha un po' di spazio, chiuso da Magri, ancora Nanni, prova ad andare, lo ferma il capitano Torino, dall'altra parte Gianni, prova a mettere ordine, prova ad andare proprio lui, Sull'out di sinistra, punta Nanni, lo chiude Calzolaio, divince un impallo in maniera fortunosa, ne vince due, Nanni, Magri, 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 Didonato, a volo, rimpallato e Somma la mette giù, con ordine, palla per Artina, prova ad andare, allunga la falcata, punta Luca Torino, lo supera la seconda Artina, il tiro cross, balsano, Barbieri, D'Angelo, ci sono in avanti i ragazzi della squadra di calcetto per adesso, ultimazione prima di chiudere. Calzolaio, il numero su Magri, poi vince un rimpallo, Barbieri, perde il pallone, Calzolaio, dentro per Somma, Somma dal limite, sbaglia l'aggancio, poi Didonato, Gianni Torino, perde il pallone, Luca, anzi scusate, provate ad andare, Barbieri lo riconquista, ancora Barbieri, subisce fallo, calcio di punizione, vediamo chi batterà la punizione, poi interromperemo il nostro collegamento, davvero un bel derby. Vediamo chi va Va Nanni, alta barriera anzi, e noi interrompiamo qui il nostro collegamento con Calzolaio, sbaglia per occhio, Gianni Torino, provate ad andare, Artina chiuso e noi lo chiediamo qui il nostro collegamento. Secondo tempo della sfida tra i The Football Club e i ragazzi della squadra di calcetto, è cambiato molto il parziale, 2-1 infatti a favore dei The Football, dopo che erano stati raggiunti nel pari, si è dato poco da Nanni Torino, che adesso va a fare a sportellate con il cugino. Ricordiamo, come ci aveva detto proprio nell'intervista che aveva fatto Gianni, che non ci sono gradi di parentela in questo match, seguiremo giusto un minuto di questa ripresa per far contento Finizio, che era fuori dal gioco nel corso del primo tempo, quando siamo entrati in collegamento. Dicevamo appunto del 2-1, gara davvero bella, molto difficile, poi si sta giocando tosta come un derby, come giusto che sia. Torino, proprio Finizio, punta da Torino, il tiro, Artina vola, mano aperta, va a dire di no e devia in calcio d'angolo, la botta di Finizio, la risposta di Nanni che devia col pallone, tanto basta Artina, comunque ci arriva con la mano di Donato. Il calcio d'angolo, forte e teso, non ci arriva nessuno, allora la laterale che va a battere proprio Nanni, si fa vicino Somma, va a Somma, cerca un po' d'ordine, poi preferisce il lancio lungo per Barbieri, Finizio chiude, occhio Torino, deve chiudere Barbieri, Torino, 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 al limite, punta Somma, il tiro, ancora Artina con i piedi, va a dire di no. Ancora Artina, calcio d'angolo, va Magri, seguiamo questo, interrompiamo il nostro collegamento, Magri, perdito Nato, ancora Magri, il tiro, intercettata, laterale, palla che va fuori e noi interrompiamo però qui il nostro collegamento. Il The Football Club a gran completo, una bellissima vittoria nel derby contro la squadra di calcetto, si era parlato in settimana, visto che abbiamo fatto anche l'intervista a Gianni Torino, si è parlato su Facebook le foto dei gelatai, migliore in campo Carmine Finizio sul tronista Peppe D'Angelo, che è sacchissimo nonostante ha corso fuoco. Carmine, due parole su questa bellissima partita però, questo va detto. È stata una bella partita, complimenti anche ai ragazzi sconfitti. Mario Barbieri mi ha fatto fare un sederino tanto. Ma ora a me, mamma mia. Ti so, ti faccio vedere sul puttolo. Insomma, siete contenti? Tra l'altro siete ancora più primi perché i Zemaniani hanno perso. No, no, oggi erano 81 effettivo della squadra, quindi hanno perso. Allora l'obiettivo è arrivare primi, insomma, ragazzi. Sì, 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 vincere. Poi magari non perdere la finale come in ZNC, magari questo ve lo auguriamo. Non c'erò io, perciò. Ah boi, esageriamo. Di Tonato forse è meglio a Bordocampo, per Torino non lo so. Dai Maretto, va bene, bravi tutti ragazzi.